Grazie La festa del canto di Sant'Antonio è altissima, quindi si tramanda da generazioni Il collegamento che ci può essere con la corsa dei carri c'è come anche perché Sant'Antonio è giustamente il protettore Qui il collegamento c'è Poi col passare degli anni le associazioni, magari singoli amici hanno un po' smesso di cantare Allora le associazioni carristiche hanno continuato a fare questo canto, questo canto di Sant'Antonio Per cercare di non perdere, logicamente, questo tipo di tradizioni Anche perché poi è come se la campagna carristica del 2011 parte da oggi Per arrivare poi fino a data, il giorno dopo della Penda Chiesa Che quest'anno è il 13 giugno, ma variare in base alla Pasqua Niente di più specifico Motivazioni due particolari oggi? No, a noi fa piacere, a noi fa sempre piacere che Soprattutto quando è pieno di ragazzi come tu che seguo In questi circonsentri, una volta che hai perso la storia Perdi tutto Mencio il godico Non ci faccio? Non ci faccio la chieda Non ci faccio la chieda, ma no Allora con te ne te Ehi, guardi che ragazzi non ti vedi se ne te Ti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.